Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde e come vedete dal titolo del video oggi voglio proporvi un nuovo Fast Magic ma voglio anche usare un minuto di introduzione per ricordare o presentare nuovi iscritti una serie che iniziai mesi fa dal titolo Magic Challenge in pratica in questa serie gli iscritti mi suggerivano nei commenti degli effetti più o meno impossibili e io mi sarei impegnato a scegliere uno di questi, quello che magari mi piaceva di più e dovevo cercare di eseguirlo, di farlo nell'episodio seguente più o meno impossibile che fosse questa serie è piaciuta molto, ha ricevuto molto riscontro solo che mi sono fermato, mi sembra, al terzo episodio e avevo intenzione di farne un quarto e quindi quello che volevo fare è proporre questa sfida a tutti gli iscritti quindi se volete nei commenti a questo video provate a suggerirmi un effetto che volete che io provi a fare ovviamente ne sceglierò solo uno e più avanti quando deciderò di registrare il quarto episodio della Magic Challenge proverò a farlo per farvi alcuni esempi mi ricordo che cose che spesso mi suggerivano erano fai sparire qualche oggetto o un mazzo di carte trasforma un mazzo di carte in un oggetto cambia colore oggetti o cambia colore mazzi di carte insomma queste cose cercate di essere fantasiosi ma ovviamente senza esagerare e io farò di tutto a mio modo per riprodurre uno di questi effetti detto questo suggerite nei commenti e vi lascio al Fast Magic ciao ragazzi ciao Grazie a tutti